Adesso rimane il ciucco Tu mica dovevi rimanere in casa per curare la tosse? Sì, ma chi ha che prende il sedano? Non è una buona motivazione Quello è il bastone polifunzionale Eh sì, ma... Mannaggia Posso aiutarti? Ma... C'è in giro anche 5 giucche, ha detto il papà Ma è logico Guarda, guarda, una è lì Una è lì Ma poi lui è venuto a prendere le patate Come mai non... Ai, ho andato dentro all'occhio Questa è combinata È andato dentro all'occhio Come che faccio io? No, aspetta Ma questo è marcio Bisogna tirare via il marcio Bisogna mettere delle rame Adesso non so come facciamo Ma qualcosa facciamo Bisogna coprirle con dei ramoscelli che non... Ho trovato delle fotografie di 25 anni fa Oh là là Come fai a vedere? Siamo qua nel prato Chiediamo da bere a una pecorella Ah, ecco Te la ricordi? Si chiamava Bianchina Bianchina È andato dentro all'occhio Questa è un po' di rame Questa è un po' di rame Questa è un po' di rame Questa è un po' di rame